Grazie Presidente per la sospensione, grazie all'Assessore per essere rientrato dopo l'incontro col Sindaco. Approfitto anche della presenza dell'Assessore Ozimo che avevo citato nel ribadire l'esigenza di una nuova Commissione, Commissione peraltro già fatta lo scorso mese ma alla quale non hanno partecipato i dirigenti del Dipartimento preposto, per avere notizie sulla task force o struttura di missione per individuare illeciti e abusi relativamente all'occupazione di appartamenti di Roma Capitale. Quindi approfitto della presenza e poi formalmente richiederemo una nuova Commissione anche con la partecipazione dell'Assessorato. Stavo concludendo sui contratti di servizio citandone uno, la pulizia del verano, ma esistono esempi che sono ancora più visibili, visibili tra virgolette come per esempio pagare per i lampioni, il nostro comune paga CEA per i lampioni, poi magari un lampione, la lampada si fulmina, il cittadino richiede la sostituzione, apre un ticket, chiama il numero verde e dopo settimane il lampione rimane spento, allora insiste, ma dopo mesi rimane spento e abbiamo casi anche superiori all'anno e noi paghiamo CEA per questo servizio. e così via. Sono tantissimi gli esempi. Parlavo poi del personale di Roma Capitale, per passare ora a quello del gruppo Roma Capitale. Ebbene, spesso si sente dire che i dipendenti del gruppo Roma Capitale siano 37.000. Falso. O meglio, aziende di primo e secondo livello, ah ma CEA che sono circa 80, ne hanno 37.000, ma poi esistono anche le aziende, dobbiamo considerarle, le aziende che sono di proprietà delle aziende di primo e secondo livello. Solo CEA ha quasi 80 aziende. Quindi probabilmente parliamo di un insieme di dipendenti del gruppo Roma Capitale che sfiora le 100.000 unità. Ora, attenzione, stiamo parlando di una enormità. È come se tutti gli abitanti di Lucca lavorassero per il nostro comune e forse più. Cioè, con tutti questi addetti alla città, Roma dovrebbe essere efficiente come una città scandinava. I numeri parlano chiaro? Sto parlando di circa 100.000 unità. Facciamo i confronti con città europee, ma anche statunitensi. Non troveremo mai una città con così tanti impiegati nelle aziende partecipate, controllate o comunque a servizio per la città. Ricordiamoci questo numero, 100.000. Poi tutti i dipendenti di tutti i comuni del Veneto. Ebbene, sono meno di 30.000. Comunque al di là dei numeri, e entrando nel merito, evidentemente negli ultimi vent'anni i sindaci di centrodestra, ma soprattutto quelli di centrosinistra, hanno creato un vero e proprio mostro. Cioè, un immenso poltronificio. Poltronificio. Attenzione, questo non l'ha detto Grillo. Non me l'ha suggerito Casaleggio tramite il microchip che ho installato nella nuca. Questo lo dice la Corte dei Conti. Lo dicono gli esperti scelti dal Partito Democratico. Cioè, loro parlano, riferendosi a Roma, di immenso poltronificio. Ne parla anche il commissario della spending review, che certo non abbiamo scelto noi, Cottarelli, ma soprattutto il presidente della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, il celebre professor Antonini. Insomma, la tecnica dello struzzo, a nostro avviso, non paga più. Ebbene, che quando si fanno i confronti tra cabina di regia e governo, si inizia a parlare anche di questo. Dobbiamo affrontare questa realtà. Questa è una piaga che affligge la capitale. In vent'anni siamo riusciti ad arrivare a questo numero incredibile. Non ha uguali in tutto il pianeta e sfido gli altri consiglieri a trovarmi un paragone. Anche qui concludo con una citazione del solito, direi solito, Ennio Flaiano. Roma città corrotta? Non credo proprio. Ci sono troppi impiegati. Sarebbe una corruzione fondata sull'anticipo degli arretrati, su una ferma richiesta di aumenti e sull'anticipo della liquidazione. E questo sarebbe mai possibile? Effettivamente no. Abbiamo poi, relativamente al piano di rientro messo a punto dall'assessore scozzese, fatto un'analisi proprio sul nostro piano di aprile. Abbiamo fatto una tabellina, abbiamo visto i punti di convergenza e quelli invece in cui siamo molto distanti. Anche questa verrà pubblicata insieme a tutti quanti i nostri interventi. In conclusione, mi avvio a concludere. Noi bocciamo prima di tutto questo primo anno di consigliatura del Governo Marino. Prima ancora di bocciare, come è stato giustamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto, il piano di rientro e il bilancio. L'ho detto in apertura, per una mancata occasione prima di tutto, per un serio piano di rientro nella legalità e nella trasparenza. Ma poi lo bocciamo per un altro motivo che ha a che fare con la coerenza. Un'azione di Governo, come abbiamo visto nell'ambito urbanistico, che ha fortemente contrastato con quanto promesso in campagna elettorale dalla maggioranza, dal PD, dalla lista civica Marino, da SEL e dal sindaco in persona. Ecco, allora il messaggio che voglio lanciare è questo. Il bonus Renzi, quello che ha fatto volare il PD romano oltre il 40%, non è senza scadenza. La clessidra è già stata capavolta. Ben presto i romani, anche quelli che hanno votato per la maggioranza, si accorgeranno di una città sempre più sporca, sempre con meno servizi, ma con tasse più alte. E allora chiediamo davvero al sindaco, alla giunta, alla maggioranza una reale inversione di rotta. E come? Si può iniziare da subito. In questi giorni, in queste settimane, valuteremo oltre 10.000, forse di più, emendamenti a ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Molti di questi saranno proprio orientati a correggere questa manovra. Ecco, noi chiediamo uno sforzo, proprio per dimostrare questa reale inversione di rotta e di approvare questi nostri emendamenti e questi nostri ordini del giorno. Grazie.